Io sono Giovanni Ricaso dei Filidolfi, sono amministratore unico dell'azienda, è la mia azienda, è l'azienda di famiglia e di famiglia da il decimo secolo, per cui da mille anni. Pensare al futuro è augurarmi che ci sia lo stesso rinnovamento nel futuro quanto si è fatto nel recente passato. Io amo tanto la campagna, amo stare in campagna e amo stare in mezzo alla natura, per cui quale cosa migliore che stare nelle vigne e nelle olivetei o nei boschi d'estate. L'amore per la vita, ciò che io ho sempre adorato andando d'estate all'epoca durante le vacanze estive a Cacchiano. Per cui questo è stato il seme che è servito per farmi continuare a essere innamorato del lavoro che faccio oggi. Sono stato presidente di una fondazione per la tutela del territorio del Chianti Classico, proprio del nostro consorzio, il nostro consorzio è il socio fondatore, per cui per me il territorio è fondamentale. E' per questo che sono felice che finalmente l'UNESCO se ne sia accorto, nel senso che è bellissimo, non ci sono brutture.